Un richiamo anche a Expo, come occasione preziosa per riconoscere questo nuovo umanesimo che affonda le radici nella nostra tradizione ma che è una grande speranza per il futuro. Beh, questo richiamo all'umanesimo della responsabilità noi lo facciamo nostro e anche diciamo alla fatica di fare le cose ma alla buona volontà che è un po' quello che guida la nostra azione. È un'occasione importante per la città, è un'occasione importante per dimostrare che non ci sono primi e ultimi ma siamo tutti assieme. Questo è il nostro spirito, in questo spirito noi stiamo accogliendo i paesi e credo che sia la vera occasione per rispondere alle parole del Cardinale. Grazie.